Nel gruppo C di Lega Pro sono tre le squadre in testa a punteggio pieno, vittoria pesante della Vitervese sul campo del Bari, tre punti anche per la Ternana che batte 1-0 il Potenza, a quota 6 anche il Catania che supera 2-1 la Virtus Francavilla in gol Cicciolodi, cinquina della Regina che trova la sua prima vittoria in campionato sulla Cavese, in rete anche Reginaldo, dunque 9 partite giocate, 22 le reti fatte, un solo pareggio, 2 vittorie esterne e 6. affermazioni casalinghe, uno spot eccezionale per il terzo turno, turno che grazie alla lunga pausa per le nazionali attirerà molti più appassionati invoiandoli a seguire anche la Lega Pro. Terza giornata che dunque si aprirà come di consueto sabato alle 20.45 con l'anticipo del partenio Lombardi tra Avellino e Teramo. Gli abruzzesi arriveranno in Irpinia con una gara in meno nelle gambe a causa del rinvio della scorsa giornata che li vedeva impegnati contro la Sicula Leonzio. Domenica invece sei gare si giocheranno alle 15.00. Monopoli Catanzaro si annuncia una gran bella gara con i giallorossi che dovranno rifarsi dopo l'unico pareggio del turno e i pugliesi reduci dalla sconfitta di Pagani. Cavese, Bibonese, Regina Bisceie e Virtus Francavilla casertana completa nel turno? O meglio, manca ancora Rieti Bari e Rende Ternana. Due gare agli antipodi. I Galletti hanno subito un cocente 3-1 al loro esordio casalingo contro la Viterbese e vorranno riscattarsi contro l'ennesima laziale. Le Fere Rossoverdi invece sono una delle tre capoliste e cercheranno di mantenere immacolato il loro tabellino conquistando in Calabria il terzo successo consecutivo candidandosi come regina del girone. Alle 17.00 il Catania fa visita al Potenza provando a mantenere il passo conquistando magari la seconda affermazione consecutiva lontano dall'Etna dopo il tennistico 6-3 di Avellino. La Sicula Leonzio ospita la Paganese con gli azzurro stellati rinfrancati dal 2-0 ai danni del Monopoli Viterbese Picerno chiude idealmente il turno con i Leoni laziali che affrontano per la primissima volta la Zeta Picerno squadra ostica che proverà a mettere i bastoni tra le ruote della terza capolista del girone un turno insidioso che regalerà ai suoi tifosi altre mille sorprese.